Buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione, come vedete parzialmente rinnovata anche nelle modalità di visualizzazione dei quotidiani, ma di fatto la sostanza non muterà, andremo a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali e poi entreremo all'interno dei giornali di casa nostra, tra dei giornali abruzzesi, per conoscere quelle che sono le notizie principali che troverete in edicola tra poco. E allora, cominciamo subito, ovviamente, partendo dalle quattro edizioni del centro. Questa è l'edizione di Pescara, che torna sulla notte bianca, si può raddoppiare. Pescara, dopo il successo dell'evento di sabato, Cuzzi, l'assessore, annuncia grosse novità per il 2016. E poi c'è questa analisi che riguarda le prossime elezioni. Ecco come hanno lavorato i nostri politici, si legge e sono di fatto delle vere e proprie pagelle dei parlamentari abruzzesi, i più produttivi e i meno presenti. E poi, di spalla l'editoriale di Primo Di Nicola, candidature conoscere per deliberare. Nelle cronache, andiamo a Pescara per la questione del nuovo stadio, caccia all'intesa con i privati. Ovviamente, nella foto, lo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Scendiamo in pagina per vedere a Francavilla, sempre nelle cronache, è morto Arena, un simbolo dei balneatori. Ecco qua, Ernesto Arena, nella foto, aveva 60 anni. All'interno, che cosa troveremo? Emergenza, roghi e siccità, non c'è tregua per l'Italia. Sulla legge elettorale, ovviamente siamo in ambito nazionale, dialogo ripreso, ma l'intesa resta lontana. E poi, deputata PD Vaccini, mail con minacce a Maria Amato. Questo per l'edizione di Pescara. Andiamo su quella di Teramo, ovviamente cambia il titolo. Villa comunale a Teramo, rissa per la droga. Teramo, tre denunciati dalla polizia. Il luogo, simbolo della città, sempre più però nel degrado. Ovviamente la fotonotizia non cambia, con le pagelle ai politici, ma nelle cronache andiamo in Val Vibrata. Martinsicuro, controllori raddoppiati sui bus della Tua. A Giulianova, a 11 anni, mette in fuga i vandali. Questo per l'edizione di Teramo. Andiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Mancano i vaccini, sale la protesta. Questo è il titolo principale. A Chieti, problemi per le dosi di rotavirus ed epatite B. Il manager dell'ASL, la difficoltà, dice, è però di tipo nazionale. A Chieti, obbligazionisti ex carichieti, via ai rimborsi e poi a San Salvo e Vasto, quindi ci spostiamo sulla parte sud dell'Abruzzo. Furti di auto e ride sotto gli ombrelloni. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Patto tra indagati su 50 appalti. Si torna ovviamente sulla notizia dell'inchiesta sulla ricostruzione dell'Aquila. Nelle carte l'accordo su lavori per 70 milioni gestiti dal segretario dei beni culturali. E poi a Lecce dei Marsi, ovviamente nella cronaca, vanno a fuoco nella notte, e purtroppo non è una novità, ettari di bosco. A Sulmona, invece, si parla di raccolta differenziata, ferma però sotto il 35%, ovviamente per la questione rifiuti. Prima pagina adesso del messaggero, ovviamente, edizione abruzzese. Si torna sulla notte bianca, folla oceanica definita. Pescara, il Comune stima almeno 250 mila partecipanti. Bene, i concerti di Barbarossa, Biondi e Delodi. Successo straordinario, la macchia dei pochi negozi aperti. E qui vediamo anche delle foto della notte bianca di sabato sera. In alto, visto che siamo nella giornata di lunedì, quindi spazio allo sport per la Lega Pro. Campitelli teme che il Teramo, ovviamente siamo in Lega Pro, finisca nel girone C. E poi, primi disordini purtroppo, fumogeni, sospesa Casteldisangro-Foggia. E questa è purtroppo una notizia che poi si ripercuote anche sulla amichevole che il Foggia avrebbe dovuto giocare con il Teramo a Casteldisangro sabato prossimo. Partita che è stata annullata. In Serie B, invece, Modica, tattico per Zeman, new entry nello staff del Pescara. Intanto il Parma sta per soffiare, Insigne Junior, Roberto Insigne al Delfino con la maxi-offerta. Vitturini, invece, passa al Carpi. Il boemo si scatena e attacca, e non sarebbe la prima volta, la Juventus. A centro pagina cerca di addescare una bambina giovane bloccato. Lui era riuscito a portarla nella sua casa. I genitori insospettiti scoprono tutto. E invece, a vasto, capitano eroe, sopravvisse alla caduta di un caccia, rischia di annegare, salvata da un aviatore. In basso, scendiamo ad Avezzano, rapinata dopo il funerale. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali. Adesso ci spostiamo, come di consueto, sui quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera. E si torna sull'emergenza, purtroppo, siccità, mezza Italia in crisi. A Roma scontro sull'acqua razionata. La regione, possibili altre soluzioni. A proposito di calcio, Baggio si racconta in alto. Sogno ancora, quel rigore fallito. Ovviamente, il riferimento è alla finale mondiale, perduta dall'Italia nel 1994 contro il Brasile. A centro pagina, cronaca, vittima coltellata dall'ex marito. Il messaggio su Facebook, Maria, che difendeva la libertà delle donne. E poi, generazione 80, rischio pensione a più di 73 anni. Dal Corriere della Sera ci spostiamo adesso sulle colonne di Repubblica. L'apertura è dedicata alla politica. Pisapia, l'ex sindaco di Milano, il Partito Democratico, non è il nemico. Divisi, si può solo perdere. L'appello di Mattarella ai partiti, niente scontri sulla legge di stabilità. A Rova, invece, il piano per superare la crisi idrica. La regione dice evitare il razionamento. A centro pagina, politica internazionale. In Marocco cresce la protesta della comunità berbera. Silvia, l'eroina dell'ultima primavera araba. In basso, invece, Trento caccia all'orso che ha ferito un uomo. Proprio nella regione del nord Italia. Andiamo sul messaggero. Sicità, dieci regioni in emergenza dal Veneto alla Campania, dalla Toscana alla Sardegna. Pronte le richieste di stato di calamità. Due miliardi di danni all'agricoltura. In Sicilia triplicati i costi per l'irrigazione. Attesa per le piogge in alto, sempre per il calcio, ma ovviamente calcio capitolino. La Roma, ne acquisto Rick Carsdorp. Roma sarò il nuovo Cafu e voglio vincere. Nuovi bus e buoni trasporto. La ripartenza dei mezzi pubblici. Il governo usa i fondi europei per rinnovare anche le navi e i treni. E il sondaggio SVG italiani, contrarie alle toghe in politica. In calo anche la fiducia nella giustizia. Cronaca in basso, shock in Kenya, italiana uccisa. In villa, rapina all'alba, gravemente ferito anche il marito. E poi truffe agli anziani, arresto obbligatorio e condanne fino a 5 anni di carcere. Dal messaggero cambiamo quotidiano e andiamo sul fatto quotidiano. Debiti referendari, il PD deve ancora 7,7 milioni di euro ai fornitori. Casse e urne vuote, cresce la preoccupazione tra i 184 assunti del Nazareno. In alto, siccità, tanta acqua sprecata e arsura da fondi. Gli allarmi che però sono inascoltati. A Roma stop di 8 ore da venerdì, le regioni sono in ginocchio. E poi cannabis terapeutica, è legale ma non si trova nelle farmacie. E droga, il ministero ha fissato il prezzo, che però è ancora troppo caro. Andiamo in Turchia. Erdogan ha un anno di distanza dal tentato golpe. Il sultano incompreso dice addio all'Occidente. Dal fatto quotidiano ci spostiamo sulla stampa, dunque quotidiano di Torino. Banche italiane, troppi azionisti ignoti. Si rafforza l'anticipo pensionistico. Il governo cerca fondi per l'uscita dal lavoro, ovviamente. Prima dei 67 anni. Negli studi di credito, un socio su tre è straniero. Morando a rendere permanenti gli sgravi ai giovani. E in alto si torna, purtroppo, su quelle che sono le questioni prettamente legate all'estate, ovvero agli incendi. Piromani per noia nell'Italia che brucia. Il rogo a Viterbo, il dossier, incenere un'area grande quanto 5 metropoli. E in 10 regioni si rischia, purtroppo, la grande sete, la capitale, verso il razionamento fra le polemiche. Il piano, evidentemente, non funziona. Il reportage, viaggio tra i disperati nei cunicoli della capitale afghana Kabul, nella Kabul sotterranea dell'Oppio. E poi, sempre per la politica internazionale, il caso Macron, la stagione dell'elettore volubile. Ribaltone, team, intese più difficili sul fronte Mediaset e sulla banda larga, si segue un armistizio. Dalla stampa a Libero. La team non si vergogna dei 40 milioni a Cattaneo. Dalla Lega fino alla sinistra, tutti contro il super bonus. al manager in uscita da Telecom, che potrebbe ora andare a Mediaset. Il patron del gruppo Bollorè trema e chiama Gentiloni. La scandalosa liquidazione, viene definita a Cattaneo, scatena la polemica. E poi, ovviamente, ci sono anche delle analisi su questo argomento. Il 60% dei soci aveva detto sì al contratto. Ovviamente, un'analisi del direttore comunicazione istituzionale, team, Ivan Dompe. E poi il Vittorio Feltri. Peggio di così. Peggio così si certifica, ovviamente. L'auto, gol. Il film di Sorrentino su Berlusconi. Attento Silvio, sarai sputtanato. E poi, in basso, si torna sulla vicenda immigrati. Fermare gli sbarchi si può. Basta l'esercito. Parla il generale Vincenzo Santo, numero due della Nato, in Afghanistan. Reti idriche con la brodo. Manca l'acqua, ma quattro litri su dieci, però, vanno sprecati. Cambiamo da libero. Andiamo sul tempo, che apre con un titolo particolare. Ed è Casta Crociere. I parlamentari se ne vanno un mese in vacanza per rigenerarsi dopo le fatiche invernali. Quattro ore di lavoro al giorno alla Camera e due al Senato. Insomma, non proprio un lavoro stressante. I nostri onorevoli chiudono baracca. C'è anche chi non tornerà prima di settembre inoltrato. E poi tutti gli uomini dei presidenti. Nella fotonotizia, esposto sui poliziotti, costretti a solvergliare la maxireggia, spesso disabitata, di Napoli. Di spalla, furbetti vip, adesso pagate l'immondizia. E poi alla Regione Lazio arriva l'antifascismo elettorale, il voto incombe e spuntano i soldi. Importante dichiarazione dei redditi. Oggi è l'ultimo giorno per il 7.30 precompilato. La questione acqua, la rivolta dei romani per l'acqua razionata, commercianti, ospedali, albergatori, cittadini, l'ira dei politici incapaci, si legge, di gestire questa che è una vera e propria emergenza. Il Sole 24 Ore è ovviamente quotidiano di stampo più prettamente economico. E dunque l'apertura e i temi sono leggermente differenti. investimenti, cartelle volontarie e liti, tre sanatorie per 9 miliardi. Ultima settimana per pagare la prima o unica rata sui ruoli. E poi una questione che riguarda la politica internazionale e anche gli investimenti. Con lo scudo anticina, l'Unione Europea mette a rischio 220 miliardi di euro. Concorrenza, i timori degli albi, avvocati, farmacisti, ingegneri, troppo spazio ai soci di capitale. Il disegno di leggi in cerca del voto definitivo al Senato prima della pausa estiva che ci sarà. Il mattino, acqua, la rete Colabrodo, le cause della crisi, tariffe e investimenti tra i più bassi d'Europa. Questa è l'inchiesta del mattino. Nel mezzogiorno dispersione record. Le conseguenze del referendum. Agricoltura KO, bisogna costruire nuovi invasi. Il fenomeno, roghi, perché brucia solo il sud e distrutta la riserva dello zingaro. A centro pagina, cronaca, manda i figli in vacanza e accoltella la moglie. A Venezia, tragedia in una famiglia di Torre del Greco. E a Cagliari un altro massacro per un banale litigio. Addirittura, pensate, sulle briciole a tavola. Calcio, ovviamente, spazio al Napoli. Sarri senza mercato, lo scudetto è difficile. Poi la frecciata, Juve e Milan si sono rafforzate di più. Ovviamente frecciate, evidentemente, alla propria società per il mercato. Evidentemente mancato mercato del Napoli. Per i trasporti c'è il buono per i dipendenti. Il piano del governo punta sulla mobilità locale. 2.000 mezzi in più all'anno. E poi, sul fronte internazionale, palestinesi deboli, un rischio per Israele. Lo scenario, assalto all'ambasciata di Amman, morto un diciassettenne. Il secolo XIX, dieci regioni a secco, stato di calamità. Pronta la richiesta di emergenza per le misure a sostegno. L'allarme di diretti in Liguria, Olivi e Basilico a rischio nel Ponente. E a Viterbo presi quattro ragazzi piromani. Una bravata, dicono. Volevamo solo giocare. Un gioco, evidentemente, molto pericoloso. Dal secolo XIX andiamo sul gazzettino. Ospite dell'ex moglie la uccide. Cronaca, ovviamente. Musile di Piave colpisce la donna con tre coltellate e poi chiama il 112. Venite, respira ancora. Purtroppo il femminicidio che anche noi in Abruzzo abbiamo imparato a conoscere bene. Tra i due, nonostante la separazione, i rapporti erano buoni. Lei lavorava all'outlet di 90. Si torna anche qui sulla questione siccità e calamità in dieci regioni. Il rischio è quello di razionamento dell'acqua. E poi in Trentino in seguito è ferito da un orso. Ordine di cattura per l'animale. La provincia vuole allontanarlo. Ma lo scontro diventa, si sposta addirittura in politica. Chiudiamo con le prime pagine nazionali. Per andare sulle prime pagine nazionali, sì, ma dei quotidiani sportivi. Perché è chiaro che siamo in un periodo di calciomercato. Le prime amichevoli estive. Le big di Serie A sono all'estero. E allora si stanno anche ben comportando. Vediamo però quali sono gli sviluppi. Ovviamente partiamo dall'intervista a Vincenzo Montella, allenatore del Milan. È un Milan meraviglia. Intervista all'allenatore del momento e dice Niang. Me lo terrei molto volentieri. In alto la Juventus. Chiellini saluta Bonucci. È una partenza, dice, che non pesa. Ma umanamente, Leo mi mancherà molto, Bernadeschi fa le visite. Domani sarà negli Stati Uniti. L'Inter vi dà 50 milioni, spalletti e già derby. Oggi in Cina esame con le Lione. Il tecnico paragoni con il Milan. Sono senza senso. Invece, come avete visto, Sarri avvisa il Napoli. Ci vuole umiltà. Favoriti? Sono cavolate. I ragazzi devono avere la testa giusta. Ci aspetta un campionato più duro. In molti, dice, si stanno rinforzando. Sempre a proposito di calcio e di calcio mercato. Il PSG nuovo scatto per avere Neymar. Anche se poi il fuoriclasse del Barcellona insieme a Pichet di fatto hanno smentito il passaggio alla formazione francese. Con una foto sui social. Il Torino, Belotti di rigore e batte anche Mijaelovic. Torino 5-0 in amichevole. L'Atalanta invece batte 3-1 la Gianna Erminio. Ilicic-Papu, la coppia. Ovviamente decolla, ma è una coppia che ha fatto davvero molto bene anche in questa stagione, centrando la qualificazione in Europa. Dal calcio andiamo sugli altri sport. Superdetti, nuoto e terzo rimontano in 400 stile libero. Domina Sun Yang sull'Olimpionico Orton. Gabriele sul podio con un gran finale. Pellegrini e Magnini invece. Staffette che risultano amare. Questo per i mondiali di nuoto. I mondiali di scherma invece. Garozzo, mago del Fioretto. Ma stavolta è di bronzo. L'Olimpionico perde con Saito in semifinale ed è molto deluso. Ho sbagliato io, dice. Oggi squadre Fioretto donne e sciabola uomini. Ovviamente in bocca al lupo agli italiani. Si è concluso il Tour de France, anzi il Tour de France. A Parigi il re si scopre però. Più umano il britannico al quarto successo si è commosso sul podio. a Parigi. L'ultima tappa va a Gronewegen. Dalla Gazzetta dello Sport andiamo sulle colonne del Corriere. Anche qui parla Montella. Cento giorni e vedrete il Milan. Va a cento. E poi leggiamo un piccolo stralcio di che cosa ha detto Vincenzo Montella. a Mirabelli dice chiedevo Bonucci dieci volte al giorno. Questa squadra durerà nel tempo pronti per l'Europa. Lo scudetto tra mille giorni. Ovviamente Montella tiene i piedi per terra e fa assolutamente bene. E poi intervista esclusiva al presidente della Roma. La mia Roma. James Pallotto ovviamente. La mia Roma sarà grande. Sabatini curioso che sia con Spalletti. Il presidente giallorosso rivela. Walter Sabatini non voleva Luciano. Ed ora è con lui all'Inter. E poi un giudizio anche sul neotecnico della Roma. Il nostro abruzzese Eusebio Di Francesco che dice mi piace. Andiamo in casa Napoli. Mago Unas strega il Napoli. Sarri applaude. A colpi super. L'Inter invece si avvicina a Vecino. Ecco il giorno della firma. 24 milioni di euro. Altri sport come abbiamo visto sulla gazzetta dello sport. Detti di bronzo nei 400 stile libero. Il mondiale è iniziato bene. Tour de France. Frum. Triomfa a Parigi. Aro. E Nibali adesso vanno all'assalto della Vuelta di Spagna. Chiudiamo la rassegna stampa. Chiudiamo con le prime pagine. Andando a vedere quella di tutto sport. Che di fatto chiude anche quella dei quotidiani sportivi. Chiellini. Bonucci. Io ho più fame di te. Il difensore della Juventus replica l'ex compagno stupito del suo passaggio al Milan. Ma è una perdita che sposta... Non è una perdita che sposta gli equilibri. Nedved riapre la pista chic. Tutto è possibile. E invece stamattina Bernardeschi fa le visite a Torino. Ovviamente con la Juve. Il Toro rigorosamente Belotti. Show con Iliac e con Iago Falke. In basso sempre mercato. Ansia da vittoria. Già spesi 690 milioni. In Champions. Ovviamente calcio internazionale. Le big d'Europa in fila per Mbappé il fenomeno del Monaco. Murigno invece chiama Marco Verratti. Estero, Afghanistan, due stadi e otto club. Vanno oltre l'orrore. Per il nuoto, detti che bronzo, nei 400. Stile libero mondiali. Con la prima pagina di Tutto Sport noi chiudiamo la prima parte di mattino 6. Adesso ci vediamo le previsioni del tempo, la pubblicità. Poi rientriamo ed entreremo all'interno dei quotidiani di casa nostra. Seconda parte di mattino 6. Siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani abruzzesi per vedere quali sono le notizie principali che affrontano i nostri organi di stampa. Partiamo con la pagina di Pescara del centro che come vedete torna sulla questione notte bianca, il bilancio della festa. La notte bianca raddoppierà nel 2018. L'assessore Cuzzi dice che l'evento di sabato è stato un grande successo con migliaia di persone. L'anno prossimo dice che forse questa probabilità potrebbe durare due giorni. C'è stato anche un piccolo fuori programma, blackout sulla Riviera Nord. Cardelli dice che danneggiati 14 stabilimenti. A Francavilla invece il blue bar rischia il trasferimento, la sirena non è sicura, le alternative stazione o piazza Sant'Alfonso. Del bilancio della notte bianca parla anche il quotidiano, il messaggero con sempre le parole di Cuzzi che dice in 250 mila alla notte bianca così la città rinasce. L'assessore si gode il successo di sabato e anticipa gli eventi di agosto. Investiamo insieme sulle attrattive di Pescara. Questa è una delle foto, forse la più, quella che evoca di più, quella che è stata la serata di sabato sera della notte bianca. Per la strada parco invece verso lo scontro sull'arrivo degli autobus, il piano segreto così viene definito. Ma tornando sempre sulla notte bianca, polemiche e proteste per il blackout che ha penalizzato alcune attività. L'Enel ha risolto in meno di due ore. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro perché si torna sulla questione stadio. Un progetto da 200 milioni, trattativa con i costruttori. Obiettivo ovviamente è quello del nuovo stadio. Il Comune contatta Chiavaroli e Caldora per acquisire i terreni di via Pantini. Intanto il Ministero dei Beni Culturali e la Sopraintendenza dicono sì all'intervento. E qui vedete dove potrebbe, dove attualmente è lo stadio Adriatico e dove potrebbe sorgere il nuovo stadio Adriatico. Alcuni un po' più verso sud. Scediamo in basso, rimanendo sempre a Pescara. Riaperta strada Colle Orlando. La via che era stata chiusa quattro anni fa è stata sistemata la parte franata. Torna percorribile la zona sud. Sbloccati i lavori in via Tronto. Il sindaco a ottobre riparte il cantiere per completare le palazzine. Replica l'appello lanciato dal sindacato degli Edili. A Francavilla, addio Arena, il balneatore Falegname. Scomparso a 60 anni il titolare di Summer Time. Oggi funerali a Sant'Alfonso. Padovano dice era un genio, voleva essere il primo a realizzare i bungalow sul mare. E a proposito di scomparse, è morto Argentieri, storico presidente. Una precisazione. Veronica Teodoro, mio padre non mi indicò come assessore. Questa è una precisazione ovviamente del quotidiano. A Montesilvano rischia di perdere l'abitazione ma offre ospitalità ad una sfrattata. Questa è veramente una prova di solidarietà. E poi invece, per quanto concerne gli eventi, tra Pescara e Nocciano. Che festa con i Maggiolini e le Porsche. E questo, lo vedete, è un Maggiolino. Torniamo adesso su... Cambiamo città. Ma lo facciamo con il quotidiano Il Messaggero. Andiamo all'Aquila. Rompicapo piano regolatore. Almeno 16 mesi per finirlo. L'assessore Deramo. Ci saranno le basi per lo sviluppo totale del capoluogo. La nostra intenzione è andare veloci, senza buttare via. Il lavoro già fatto. E poi, per la cronaca, schianto in moto contro un'auto. 24enne romano in rianimazione. Ma, torniamo alle questioni aquilane. Dopo il voto, si nominano le commissioni confermato di Benedetto alla garanzia. Vedete, questo è l'articolo. In basso, si torna sempre sulla politica. PD nazionale ha la pezzo pane l'incarico sulla ricostruzione. Invece, per la cronaca, tenta di abusare una bimba. Otto mesi. Un uomo bloccato dai genitori della piccina che lui aveva adescato a pretura. Allora, leggiamo, avrebbe invitato una minore di 4 anni a compiere atti sessuali e così sarebbe abbassato i pantaloni e avrebbe mostrato le proprie parti intime alla bambina. Davvero una vicenda che ha dei contorni abbastanza tristi. Andiamo in provincia dell'Aquila. Ambiente, associazioni convocate in comune per un primo confronto ad Avezzano. Ripuliti i canali del Fucino, salvati alcuni pesci dal fango e dalla secca. Presutti, rilanceremo il comprensorio dal punto di vista geologico. L'elenco completo di tutti quelli che hanno partecipato al summit. Sempre ad Avezzano la polemica sul CAM. Tedeschi si difende. Sceniamo ancora. Entro d'acqua. Donate le arnie ai terremotati di Amatrice. Invece in Valle Roveto, seguita e rapinata dopo il funerale. Allora, leggiamo questa che è una notizia particolare scippata in pieno giorno della collana d'oro. Vittima dell'aggressione, una donna di Morino che non ha avuto nemmeno il tempo di reagire. È accaduto l'altro pomeriggio a Grancia. La giovane era appena scesa dall'auto mentre si avviava verso casa. Adesso torniamo sulle colonne del centro per andare proprio sulla pagina aquilana. e poi cambieremo città. Scandalo terremoto. Patto tra indagati, lavori per 70 milioni. Le carte svelano l'accordo per accaparrarsi. 50 appalti gestiti dal segretariato beni culturali. L'inchiesta fa saltare tutto. Ovviamente questa è una delle notizie principali di questi ultimi giorni. Purtroppo non è una novità questa ulteriore inchiesta. Andiamo sulle intercettazioni. Con le casette di Amatrice stiamo in grande spolvero. Purtroppo non è la prima volta che dalle intercettazioni esce fuori uno spaccato di chi dovrebbe gestire la ricostruzione, non proprio edificante. In basso, come avete letto, Stefania Pezzopane nell'esecutivo nazionale del Partito Democratico. L'Aquila, la senatrice delega del Partito per la ricostruzione, Ora, dice, un dipartimento con le migliori energie. Andiamo adesso a Chieti. Tornando sul quotidiano il messaggero. Ospedale e De Meis. Blitz di D'Alfonso. Dopo la conferenza stampa con Flacco, Paolucci e Menna in programma un sopralluogo al cantiere dell'ex biblioteca. I lavori rischiano la paralisi per un finanziamento bloccato non ancora disponibili i 200.000 euro stanziati dal Cipe. E vediamo anche il governatore che piomba a Chieti per lanciare il ribelle Oliveri come facilitatore del project financing per il Sampio di Vasto. e proprio a Vasto ci spostiamo per una notizia di cronaca rischia di annegare vicino la scogliera salvata da un ufficiale dell'aeronautica. Una buona notizia. A Ortona gli eventi, concerti, sagre e cinema d'estate ma non ci sarà invece a Ortona la notte bianca. A Lanciano, questione asili nido, parte la corsa alle iscrizioni. Sono 80 i posti complessivi nei due asili nido di Lanciano per i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Andiamo a Teramo adesso e lo facciamo con il centro. Emergenza sicurezza, villa comunale, terra di nessuno. Rista tra drogati con tre denunce. Uno dei tossicodipendenti aveva un contello. L'episodio ripropone il problema del luogo simbolo sempre più degradato e sporco. Il sindaco Brucchi dice che bisogna intervenire con più determinazione. E poi a Giulianova un bambino davvero molto coraggioso. Bimbo chiama i carabinieri e fa fuggire i vandali. In basso andiamo in Val Vibrata per i trasporti controllori raddoppiati via gli abusivi. Martinsicuro, Tua, aumenta il personale dopo le aggressioni e gli stranieri senza biglietto scendono. A Roseto investito motociclista della Polstrada sulla Statale 16. A Roseto Sud, agente che è stato ferito. A Teramo ma sulle colonne del messaggero. L'apertura è diversa. Teramo Ambiente, Bozzelli si ricandida alla Governance. Il centrodestra è ancora lontano dalla riconciliazione dopo la crisi. Morra suggerisce, si segue, il percorso dei migliori curricula. A Giulianova, a Europa, c'è stabilimento e aumento dell'occupazione. Iniziativa dell'imprenditore De Luca che esporta materiali in tutta Europa. Scendiamo sempre a Giulianova per rimanere sulle tematiche sanitarie, chirurgia e ortopedia. Assalta l'accorpamento. Invece sul Gran Sasso salvati due alpinisti che erano in difficoltà ed erano originari di Loreto Aprutino e Penne. In basso, in Val Vibrata, biotrattamento per risanare la foce del Vibrata. Leggiamo meglio. Dopo lo sconvolgimento dei fondali, si è deciso di procedere subito per garantire la valneabilità. Invece c'è il mercato ambulante che fa litigare ben due comuni. Il mercato del venerdì della frazione di Santa Lucia ha creato una frizione tra il comune di Roseto e quello di Notaresco che contro quel mercato ha fatto ricorso al Tar. Stiamo per entrare nelle pagine di Sport, come ogni lunedì. Sarà molto ampia la pagina di Sport. E allora? Partiamo con il Pescara. Il ritorno di Giacomo Modica, il boemo, vuole il tecnico nel suo staff, ma lui dice, non ne so, ancora nulla. È meglio puntare sulla scaramanzia per l'allenatore del Celan. Dovrebbe ricoprire però, adesso scaramanzia a parte, il ruolo di tattico. Ha riportato il calcio spettacolo nel centro marsicano con il 4-3. Eccolo qua, Giacomo Modica. Leggiamo anche quelle che sono le sue dichiarazioni. Io al Pescara non ne so nulla ad oggi. Non ho ricevuto chiamate da nessuno. Ma potrebbe essere davvero un ritorno. Per Giacomo Modica, che di fatto è uno degli allievi proprio di Zeman, tecnico originario di Mazzara del Vallo. Per il calcio mercato però, si profila per il Pescara un dispetto da parte del Parma, perché su Insigne Junior Vitturini invece se ne va al Carpi. Leggiamo anche in questo caso. Attento Pescara, ti rubano Insigne. Il Parma si sta gettando a capofitto con il Napoli per prelevare l'esterno d'attacco, fratello d'arte, 23 anni, obiettivo di Zeman per la prossima stagione. Intanto domani ad Avezzano il test con il Teramo alle 17.30 allo Stadio dei Marsi. Zeman che è scatenato, lo definisce il messaggero. Noi in Serie A ci proviamo. Il tecnico dice, sono ancora avanti di 15 anni. E poi frasi al veleno su Moggi e Juventus. Lo Stadium, dice, andrebbe chiuso per la questione legata al riconoscimento o meno degli scudetti che poi sono stati revocati. Dal messaggero cambiamo e andiamo sul centro, sempre aprendo la pagina dedicata al Pescara a Zeman e alla Serie A. Ci proviamo. Il tecnico resta ottimista nonostante le incognite del mercato e l'organico troppo ampio. Lavoro in corso a rivisondoli. Dice l'allenatore, la Rosa buona individualità ma restano i dubbi sulla capacità di adattamento di molti interpreti al calcio proposto dal Boemo. E senza le cessioni il mercato ovviamente è bloccato. Sfuma Insigne Junior, l'attaccante di proprietà del Napoli, giocherà con il Parma. Domani alle 17.30 allo stadio dei Marsi di Avezzano, l'amichevole contro il Teramo. Il ritiro di Gessa nel ruolo di team manager. L'ex ala che conquistò la A nel 2012 proprio agli ordini di Zeman dice che il Boemo non è cambiato. Sembra un duro però poi alla fine ha grande ironia. Pescara Giovani invece in questo caso. Primavera inizia la gestione di Massimo Epifani. Chiusa l'esperienza a San Nicolò, il 42enne pescarese si tuffa sulla panchina che ha lanciato grandi nomi che poi sono arrivati in alto come Di Francesco, Bucchi e Oddo. Tra i convocati figurano, ovviamente della primavera, bianco-azzurra, De Licari e il difensore uruguaiano Elisalde prelevato dai Wanderers di Montevideo. Si parte con il nuovo format, il Delfino, inserito nel Girone Sud. E poi, tifosi del Foggia creano disordini. Sospeso il test col Castello 2000, sabato fumogeni e petardi al Teofilo Patini. E vedete nella foto che hanno di fatto costretto anche all'annullamento, come vi dicevo prima, dell'amichevole tra Teramo e Foggia che si sarebbe dovuta disputare sabato prossimo proprio al Patini. E poi vediamo anche un focus che il centro fa sul prossimo campionato di Serie B. Il Parma fa sul Serie B, ma d'altronde non poteva fare diversamente, anche se è una neopromossa, ma scuola con il blasone del Parma. Con Insigne Junior e Dezzi, anche il fratello d'arte e la mezzala rosetana, vanno da D'Aversa il 3 agosto a Bari, il calendario della nuova stagione. Ovviamente ci sono le squadre, tra cui ovviamente anche il Pescara, con alcuni nuovi acquisti, altri che arriveranno, ma soprattutto altri che sembrano destinati a partire. Lega Pro adesso, andiamo ovviamente a Teramo, l'estate di Campitelli, tra Sansovini e Gironi, il patron del Teramo, mi giungono, dice strane voci di un possibile inserimento nel Meridione, per noi spese che a quel punto sarebbero insostenibili. Il sindaco, ovviamente Marco Sansovini, farà vincere il Pineto, dunque di fatto Campitelli non smentisce la trattativa, tra Sansovini, possibile, probabile, tra Sansovini e il Pineto. Infatti leggiamo, Sansovini con lui il Pineto punterebbe alla vittoria del campionato. E poi sulla questione Girone, mi arrivano strane voci, confessa, c'è la possibilità di essere inseriti nel Girone C, ma per noi sarebbero viaggi che a quel punto insostenibili, anche per la distanza geografica. Invece a San Nicolò, aggregato, anche il figlio di Morriero. Andiamo in Serie D, San Nicolò che è in ritiro a Castel del Monte. In Serie D rimaniamo per la vastese, al raduno pure Mattias Cristaldi, l'attaccante argentino e l'ultimo tassello. Oggi la squadra ha il soffio e nella foto Gianluca Colavitto, tecnico proprio della vastese. Al Real arriva Iusufi, sarà il portiere Under. Ovviamente al Real Giulianova, alle 16. Inizia la preparazione, anche in questo caso, allo Stadio Fadini, poi il trasferimento da domani invece al Campo Castrum. E invece brutte notizie per il Chieti, che senza Marinelli si teme un lungo stop, partenza in salita per i Neroverdi, che oggi pomeriggio inizieranno ad allenarsi in vista del campionato di eccellenza, che vedrà protagonisti sia il Chieti, ma anche, come abbiamo detto, il Giulianova. Andiamo sulle colonne del centro per rimanere e ritornare in Lega Pro e sentire cosa dice Mirko Petrella, che dice voglio restare qui, invece Lorenzo Polucci sarà il mio anno. L'esterno offensivo, la mia intenzione è continuare l'avventura con il Teramo, il trequartista, sono cresciuto rispetto a due anni fa, sfrutterò stavolta questa chance. In basso il Lanciano si copre le spalle con un buon vivaio. Definiti i dettagli dell'accordo tra il presidente De Vincentis e l'Accademia di Calcio Frentana. Tra oggi e domani si conosceranno le possibilità di ripescaggio in promozione, in base alle iscrizioni pervenute in federazione e al numero di club in difficoltà nella regione. Adesso torniamo con la doppia pagina proprio nel campionato di Serie D, con un'analisi davvero molto ampia sulle formazioni al via. L'apertura è dedicata alla Vastese, Colavitto Vastese pronta ad una grande stagione. La squadra si ritrova a bomba alle 16.30, primo allenamento in vista del prossimo campionato. La Rosa è da completare, amichevoli il 3 agosto con il Benevento e il 13 con il Real Giulianova. Facciamo una lettura circolare. L'Aquila è il raduno slitta di una settimana. L'appuntamento dovrebbe essere il 31 luglio a Campo Felice. Chiodi dice che domani ci sarà il passaggio di quote. Una questione che si trascina da un po' di giorni, questo cambio di proprietà, passaggio di quote nell'ambito dell'Aquila Calcio. Il San Nicolò invece suda già a Castel del Monte. Il Presidente Di Giovanni puntiamo sul mix tra giovani e veterani. Questo è uno dei senatori, Maurizio Chiacchiarelli, che rimarrà anche nella prossima stagione nelle fila della formazione bianca-azzurra. I Nero Stellati neopromossi con il Portafortuna. Vitone, il regista, la terza stagione con i Pratolani e due promozioni di fila. E adesso nell'ottica circolare risaliamo verso l'Avezzano. Si alza il sipario sul nuovo Avezzano, Marrabeni lascia l'esterno Ciri Pensa, chiuso dall'arrivo di Dos Santos. Marino porta Caramanico anche se in prova e sarà una squadra, quella marsicana decisamente ambiziosa per il prossimo campionato, soprattutto perché ha fatto un mercato davanti con Branicchi, dall'Arzachena e appunto Dos Santos, davvero di alto profilo. A Pineto, altra squadra che sogna in grande. Il Pineto sogna il colpo Sansovini, ma ovviamente ci sarà da vedere se poi si concretizzerà il tutto. Ma in alto, una squadra che potrebbe far parte della prossima Serie D, perché in mattinata ci sarà la presentazione del nuovo Francavilla di Candeloro, perché il Francavilla aspetta l'ufficialità del ripescaggio. Allora, come vedete, potrebbero essere davvero tantissime le squadre della prossima Interregionale. Scendiamo di categoria, andiamo invece in eccellenza, dove ci sarà questo scontro destinato a durare per un'intera stagione tra Chieti e Giulianova. In Casa Neroverde, Marinelli infortunato, il Chieti a caccia di un bomber di scorta. Oggi lo era duro, ma l'attaccante ha un problema al ginocchio. Preso il terzino di Renzo, Leone e Mazzaferro in attesa. Dall'altra parte, in Casa Giulianova, Alvia, ingaggiato Rinaldi. Ora serve un portiere. Nel pomeriggio inizia la stagione dei giallorossi di Piccioni, senza il bomber Tozzi Borsoi e il difensore Melis. Queste ovviamente saranno le big del prossimo campionato, destinate probabilmente a giocarsi fino alla fine la vittoria del torneo. In Casa Angolana invece il colpo è doppio. Ecco, Sparvoli e Brunetti, Casimir ripassa all'Alba Adriatica, Promozione, De Cillis e Giovannelli vanno al Fossa Cesia. Torniamo sul messaggero. Cessione dell'Aquila è il giorno decisivo. Dovrebbe attivarsi una staffetta tra il Capologo e Roma per i documenti mancanti. Si lavora su un passaggio di quote tra il 60 e il 70%, ma non è escluso un piano B. E allora leggiamo anche il giorno della verità per l'Aquila Calcio. Oggi potrebbe attivarsi una staffetta all'Aquila Roma per portare i documenti mancanti al gruppo di imprenditori che finora ha lavorato per rilevare una quota sostanziosa del pacchetto di maggioranza compresa tra il 60 e il 70%. Siamo dunque all'ultima curva, o almeno questo è quello che si attende la piazza dopo mesi. Travagliatissime ovviamente sul mercato, è tutto fermo e molti hanno lasciato, come purtroppo accade in questi casi. Ad Avezzano vi ha raduno una rosa di alto livello, soddisfatto Iacovitti in vista della partenza. Per Caramanico Terme. Farinelli, colpo a Montorio, Paterno aspetta il pass, Miccole all'acqua e sapone di Donato Resta, Celano, tutto a posto. In basso, fumogeni e petardi, sospesa Castel di Sangro, Foggia, i disordini. In serie D, Pineto ai nastri di partenza, tra i convocati c'è Ciagas, due lamichevoli fissa del 2 e 5 agosto, contro lo spoltore e la Rosetana. Cambiamo adesso dal calcio, dall'ampia pagina di calcio, ci spostiamo invece sulle questioni più prettamente cestistiche. Ovviamente partiamo dalla serie A, dalla serie A2, da Roseto, perché Di Paolo Antonio è a caccia degli americani. Il coach sta selezionando, in base ai video, la selezione dei due giocatori è una scelta che non si può sbagliare. Intanto, Quadrangolare e Ministars, 400 atleti, babies locali, battuti in finale da Leoncino e Mestre. In serie B, invece, Cantagalli a Campli, Piccinini, Under a Teramo, due trattative per due squadre di serie B. E invece, purtroppo, dopo le delusioni, che sono state tante in casa Chieti, dopo le delusioni, si punta sulla Magic e sul risuscitato circolo a livello agonistico, ai nastri di partenza, il club dovrebbe essere iscritto al campionato di serie C. Calcio a 5, Acqua e Sapone, cresce la scuola calcio e invece, in casa Pescara, Rescia, dice, è un Pescara con dei progetti che sono molto ambiziosi. Rimaniamo sempre sul messaggero, poi torneremo sul centro. Volley a 2, la Lega cambia le regole, la Sieco punta in alto. Europei, la Sabatini in finale a Grosseto, ottava, ma prima delle italiane. L'atleta Teramana si arrende in finale agli under di Grosseto. Eccola qua, Gaia Sabatini, protagonista proprio in in Toscana. Beach Soccer, europee e mondiali per Lupo e Nicolai, la coppia d'oro italiana avrà un'estate di fuoco, si comincia il 28 luglio nella griglia iridata a Vienna. Per quanto riguarda l'arsegna iridata, gli azzurri debutteranno sabato prossimo con il duo della Sierra Leone. E invece, per Landball, con Levecchio e Proger, un addio che però è al veleno. torniamo sul centro per le ultime pagine di sport. All'Aquila ovviamente si parla di rugby. L'Aquila è un cantiere, Gran Sasso già al lavoro, Serie A, mercoledì, riunione tra società e giocatori nero-verdi sul futuro. A Villa Sant'Angelo arriva a Milani, pilone e campione d'Italia con Calvisano. E per la nazionale femminile con l'Ital Donne l'Aquilana Cucchiella, pronta al mondiale. Eccola nella foto, Elisa Cucchiella. Altri sport, palla a mano a uno e a due, Lions si rimette subito a sudare, Teramo aspetta i primi rinforzi e poi Nepa conquista per i motori tre punti preziosi al mondiale junior di mototrail. Rosetano in evidenza sul circuito portoghese dell'Esto Real, pugilato, una testata fa crollare il sogno della vezzanese di Berardino, pugilato, titoli italiani, titolo italiano dei pesi massimi. Torniamo adesso invece sul basket di Paolo Antonio a caccia dei due americani, di fatto più o meno lo stesso titolo che abbiamo visto sull'altro quotidiano. Il coach, direttore sportivo, prenderemo i migliori sulla base dei budget, in base al budget. Non ci sono nuovi ingressi di sponsor, disattese le promesse della politica. Serie B, Amatori, Pescara, Grosso sarà il nuovo capitano e dice siamo competitivi. Sempre in serie B, a Campli, Cantagalli, Campli darò il massimo. L'ex Matera può ricoprire più ruoli, Serafini verso la conferma. A Giulianova, Costantini, stiamo allestendo un Giulianova importante e l'ala di Omede resterà proprio in giallorosso. Sempre per il basket, il centroserbo Oluic alla BCC Vasto. Ancora basket, Teramo, Piccinini, felice di essere a Teramo, il Neoplay si presenta, sfuma l'arrivo di Samoggia, ex Piacenza, a Ortona, la We're Ortona, spunta valli per la panchina, sfumati di Paolo e Francani, il nome caldo è quello dell'ex Senigallia. A Ortona c'è ancora questo rebus legato all'allenatore. Ciclismo, Gran Fondo, Angelini, il team Go Fast fa il pieno di successi di Pietro e Fedele, spadroneggiano nelle due gare in campo femminile e sorrisi per Bergozza e Parente. Giro d'Italia and bike, Giagnoni protagonista, il trofeo di Roccaraso valevole per la quarta tappa della manifestazione paralimpica e poi Ama Abruzzo Kids, gli amici della bici trionfano a Rivisondoli, grande successo per la società di Spoltore che conosciamo davvero molto bene. Dunque, complimenti a loro. Chiudiamo con l'ultima pagina atletica, Sabatini e Beneduce si fanno onore agli europei a Grosseto, l'atleta Teramana è ottava nei 1.500, migliore record personale, la martellista pescarese nella finale è decima con la misura di 52 metri e 43 Podismo Corribarrea a Giancola tra le donne Campana davanti a Vania in basso la gara di Trasacco Nunzio fa il vuoto alla Trail Centopozzi il guardiese campione regionale chilometro verticale insieme alla Papponetti e poi Podismo di Cecco sbanca la tre giri in Rapinesi il Farese vince a Rapino in campo femminile bene la di Donato con questa notizia noi chiudiamo questa rassegna stampa di mattino 6 che ovviamente tornerà domani mattina sempre alle ore 8 io vi do appuntamento con la nostra informazione con l'informazione del TG6 sempre puntuale a partire dalle ore 14 è tutto buona giornata a partire a partire